ciao a tutti i ricordi di vedere questo nuovo video io sono loria e oggi che facciamo oggi sono andata a fare un po di compiere proprio belle proprio però ho fatto solo un acquisto raga perché volevo più roba però ho trovato solo una maglietta speriamo che mi va raga poi ho mangiato con un po mio padre proprio mamma mia sono piena raga voi preferite mcdonald oppure a bunda e king io preferisco più bunda e king perché ti danno più roba e mcdonald ti danno poca roba lo so però mi piace pure le mcdonald la faccio vedere la maglietta ok la è molto grande io spero che mi va raga non so che riuscite a vedere staremoci sia avanti sia dietro però dietro e avanti lo so penso che mi va raga e lo so perché grande si vede che grande raga penso che mi va speriamo bene e lo so che dico saremo che mi va perché se no non devo cambiare se no mia mamma la fa più grande non lo so poi sono andata a bunda king quale sorpresa è uscito e sono usciti i puffi faccio vedere pure eccola qua raga io ho detto soffresa femminile è uscito gagamella no vabbè raga i puffi sono vabbè che volete fare raga e questi sono le sopprese di oggi ragazzi mi sentite raffettata perché io mi sono mangiato un gelato mi sento proprio irraffettore non lo so e sono le belle magliette sono i simpson stranger things poi e poi non mi ricordo ah felix e voi ricordate chi è felix è un gatto quindi la sorpresa è bella e mi sono mangiato pure niente di cipolla lo so altre persone non piacciono e io a me piace lo so e questo video si conclude qua e questo ho fatto raga lo so non sono riuscita a vedere la felpa però raga è grande proprio grande speriamo che mamma piace perché perché sono i miei gusti speriamo che non dice di nuovo piccolo non avete visto come è grande e spero tanto questo video sia piaciuto mettete like e scrivete nei commenti che volete vedere le cose che faccio ogni giorno ciao alla prossima